E il decollo dei primi assistenti della nostra Avefana dovrebbe avvenire regolarmente fra pochi attimi. Da vent'anni questo è l'evento che a Gandino conclude un po' le feste. Esattamente sì, è esattamente vent'anni che organizziamo questa iniziativa il 6 gennaio in occasione della Avefana. Questa iniziativa è nata appunto vent'anni fa da una proposta di Diego Servalli, istruttore nazionale di Volo Libro con il parapendio, il quale una sera è venuto in prologo da me dicendomi sarebbe bello organizzare qualcosa per la Avefana perché non la facciamo col parapendio, la facciamo scendere col parapendio. Abbiamo accettato subito la sua proposta, ci siamo organizzati e i primi anni la Avefana scendeva solo col parapendio e successivamente Diego, ripeto, istruttore nazionale ad altissimo livello, ha inventato anche di scendere con una slitta particolare, una slitta in legno del peso di 85 kg per 3 metri di lunghezza e 80 cm di larghezza che solo lui sapeva portare. Infatti ci sono stati degli anni in cui purtroppo per il vento in quota non si riusciva a decollare, quindi la Avefana non è scesa, è arrivata magari con un furgone piuttosto che con un pulmino o con l'asinello addirittura, proprio perché le condizioni meteo del vento non consentiva il decollo. Da quest'anno invece purtroppo Diego, come sappiamo, è venuto a mancare due anni fa, la Avefana scende purtroppo solo col parapendio perché nessuno dei suoi allievi e ora liberi amatori del volo libero non se la sentono di decollare con questa famosa slitta di 85 kg che rende appunto il decollo, specialmente il decollo e il volo, molto pericolose. Ricordiamo che Diego è stato istruttore nazionale, lo ricordiamo in questa occasione proprio perché è stata una persona importante per noi e soprattutto per il volo libero che oggi è intitolato proprio a lui. Lui si chiamano amici del volo libero Monte Farno, Servalli Diego. È un ricordo a lui e speriamo che la Avefana porti tanti dolci ai bambini che sono qui presenti. Una settimana dopo ritroviamo Don Guido e anche questa volta non ha saputo resistere alla tentazione di un volo. Giusto, sì, sull'aeravamo con l'Alpi Fly di Rovetta, qui siamo col Monte Farno. Ringraziamo anche il Volomania che ci dà la disponibilità dell'atterraggio per tutti i nostri bambini, in ricordo del nostro Diego Servalli, fondatore del club. Cerchiamo di mantenerlo vivo e sono contento perché sia i nostri piloti che anche la comunità di Gandino ci vengono davvero incontro e tengono ancora viva questa bella sport del volo libero. In quanti eravate questa mattina? Questa mattina eravamo in 8, 8 mi sembra, perché essendo l'atterraggio qui un po' delicato non diffondiamo più di tanto perché occorre essere abbastanza bravi ad atterrare, poi anche il vento era un po' in febbrillazione stamattina, cerchiamo in genere di stare su numeri più ridotti. Il Rovetta invece, il Fly giustamente, chiede molti piloti perché è un bel atterraggio, anche se lì uno è finito sul tetto ma un po' di scenografia ci vuole, dai!